La Edelbietra è nata 37 anni fa, eravamo solo io e mia moglie all'inizio e gestivavamo tutta l'azienda. Oggi abbiamo 30 dipendenti più i due miei figli che sono giovani sono entrati in un'azienda perché anche allora piace fare questa attività. Abbiamo fatto questo investimento per essere più competitivi sul mercato e già stiamo pensando al futuro, ossia un'ulteriore investimento, infatti già c'è un progetto in atto per l'estensione di questo capannone fino a 14 mila metri quadrati. La Edelbietra è diventata quello che è oggi grazie a due cose. La prima è la qualità del nostro prodotto, la seconda è la passione che ci ha trasmesso nostro padre sin da piccoli. La passione è la lavorazione che piace al vetro. La fortuna mia è aver sceltito un hotel di nuovo. Spero che continuerà con nuovi progetti, nuovi impianti. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio